buondì ragazzi oggi per la prima volta abbiamo fatto chiavi controcomando fial panda penultima serie a milano siamo gli unici essere in grado a farlo vediamo se funziona ottimo se apre grande ok milano via del buzzi 92 casa della chiave number one no 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione